Via ai finanziamenti per più di 70 milioni di euro che sono stati ormai assegnati a 61 comuni siciliani e tra questi nei primi posti c'è il comune di Mazzarra a Sant'Andrea. È stata infatti approvata la graduatoria definitiva per il bando a sportello riguardante la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. L'elenco dei progetti ammessi e finanziabili che accederanno alle ogevolazioni previste dalla regione è stato adesso pubblicato dal Dipartimento regionale dell'Energia. Come noto sono 149 gli enti locali in graduatoria per un importo complessivo di contributi richiesti pari a 191 milioni. Di questi 61 potranno accedere direttamente ai finanziamenti per un ammontare di 71 milioni di euro. Le restate 88 operazioni per un totale di contributi richiesti pari a 119 milioni non sono invece finanziabili visto che la dotazione finanziaria del bando è stata fissata a 72 milioni di euro. soltanto un intervento per 970 mila euro non è stato ammesso in graduatoria per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto di 50 su 100. Il bando regionale prevedeva agevolazioni da 200 mila a 5 milioni di euro. Questa è la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziati. Mazzara Sant'Andrea per 546 mila euro, Caprileone per 986 mila euro, Patti per circa 1 milione e 500 mila euro, Ficarra per 700 mila euro, Castellumberto per 999 mila euro, Brolo per oltre un milione e 200 mila euro, Monforte San Giorgio per oltre un milione di euro, Basicò per 680 mila euro, Torre Nova per 882 mila euro, Gioiosa Marea per oltre un milione e 500 mila euro, Piraino per 947 mila euro e Frazzanò per 442 mila euro.